e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi siamo qui per parlare di un gioco molto interessante manor lords è il videogioco ragazzi del momento parliamo di un titolo strategico gestionale in questo titolo di tipo appunto strategico ambientato nel medioevo si impersona un feudatario che ha lo scopo di ampliare potenziale ed abbellire il suo villaggio trasformandolo nella capitale di un regno il gioco non richiede risorse hardware esose corbellerie strunzete cazzete insomma quella cosa lì se l'ho fatto ditemelo sotto nei commenti il debutto è programmato per il 26 aprile 2024 il titolo ha richiesto svariati anni di sviluppo uno dei punti di forza di questo gioco è l'aderenza alla vera storia medievale senza stereotipi come capita in altri videogiochi di questo genere anzi si ispira parecchio alla vita e ai costumi del 14 secolo un periodo storico sicuramente affascinante il gioco rimane tra i più desiderati dagli utenti di steam pensate in quasi due milioni lo hanno messo nella loro wish list invidia ha annunciato che il gioco supporterà la tecnologia di lss 2 al lancio grazie ai nuovi driver usciti insomma da poco gioco in arrivo in accesso anticipato sul game pass ma disponibile disponibile almeno per ora solo su pc e xbox series xs in early access avrete la completa gestione degli aspetti economici politici sociali e militari il gioco per la sua minuziosa ricostruzione storica è stato accostato molto a kingdom scam deliverance ovviamente a livello spirituale ragazzi in quanto parliamo di due generi ovviamente diversi la volontà degli sviluppatori è quella di creare una ricostruzione convincente di un piccolo borgo della franconia del 14 secolo la costruzione del villaggio rispecchia le organizzazioni dei cosiddetti bargain plot ovvero gli appezzamenti di terreno che venivano affidati ai feduatari in tale zona e che rappresentavano delle piccole comunità più o meno autosufficienti in termini sociali economici e militari nella scelta del lotto di terra su cui costruire la città diventa necessario analizzare la posizione strategica e le eventuali risorse presenti in modo da rendere il villaggio quanto più completo possibile sul fronte dell'approvvigionamento poiché i contatti con i paesi circostanti non saranno frequenti né facili anche gli insediamenti sono ricreati in maniera fedele e minuziosa come quelli che potevi trovare nella zona centrale della germania in quell'epoca corrispondente oggi più o meno all'attuale baviera una cosa molto interessante è la presenza delle stagioni che ovviamente influenzerà lo scenario come nella realtà ragazzi insomma avrà ripercussione sulle attività sulla vita gli eventi meteorologici tra l'altro coprendo l'ambientazione di neve in pieno inverno ricevendo piogge abbondanti in autunno questo a sua volta vi costringerà insomma a organizzare le attività in modo da assecondare l'ambiente naturale le variazioni ambientali si riflettono anche sul sistema di combattimento con eventuali benefici o difficoltà aggiuntive che si sommano all'impianto strategico del gioco cioè se magari c'è del fango avrete delle difficoltà manor lords funziona come un city builder ma diciamo molto particolare a causa del suo essere un vero e proprio simulatore medievale un aspetto interessante del gameplay è la gestione delle battaglie che si svolge invece in maniera più vicina diciamo a un classico strategico ad ambientazione storica ragazzi detto questo intanto è uno io sono amante in generale dei videogiochi strategici ovviamente non li vedrete mai sul canale sono poco divertenti da vedere però li gioco spesso mi piace per conto mio e sicuramente terrò in considerazione questo gioco e magari lo prenderò anche insomma fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti il video finisce qui come al solito invito iscrivervi al canale lasciate un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanina di notifiche non perdervi gli altri video e supportare il canale vi ricordo che saremo live anche su tik tok per sapere quando siamo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ah che bella pisciata che bella ah che bella così